mamadou canote innanzitutto benvenuto a trapani buongiorno innanzitutto grazie di tutto come ti stai trovando bene bene alla grande siamo ci stiamo allenando bene stiamo preparando per l'inizio del campionato insomma tutto a posto l'inserimento di un nuovo all'interno di un gruppo con tanti nuovi ma anche con tanti vecchi sì io direi sono fortunato di aver trovato diciamo un gruppo compatto un gruppo di bravi ragazzi quindi mi sono interesse mi sono inserito subito bene diciamo all'interno del gruppo nelle due caratteristiche c'è la velocità un esterno che nell'uno contro uno con il suo strappo con la sua gamba fa della sua chiave la sua forza sostanzialmente sì sono uno che a cui piace molto giocare tra i spazi attaccare la profondità e giocare sull'uno contro uno quindi questo è insomma e arrivi anche con numeri importanti perché insomma negli anni passiate hai fatto veramente molto bene sì sì mi fa piacere sta cosa e devo dovrei confermarmi riconfermarmi di nuovo qua cercando di fare ancora meglio col trapani senti la prima partita contro la lazio è stato un ottimo test considerato il fatto che ovviamente stiamo parlando una squadra serie a molto bene il secondo contro il cosenza sì sì la squadra migliora diciamo giorno dopo giorno stiamo migliorando stiamo migliorando stiamo cercando sempre di di dare qualcosa sempre in più a livello dei allenamenti anche alle partite insomma si vede quando quando uno migliora e lo stiamo dimostrando insomma che stiamo lavorando bene stiamo cercando di migliorare giorno dopo giorno il tuo inserimento anche a livello tattico come procede in una squadra che sta giocando fino a questo momento 4 3 3 bene bene perché comunque il modulo e modulo che ho fatto in passato che conosco molto bene quindi mi sono inserito subito bene senza problemi senti il girone c della serie c dicono tutti che il più bello ma il più difficile da vincere sì è il più bello ma più difficile da vincere lo sappiamo tutti e noi dobbiamo essere una squadra diciamo solida compatta mentalizzata per poter far bene insomma perché in questa categoria c'è bisogno di della mentalità per per fare bene non basta solo la qualità l'obiettivo del trapani è dichiarato quello di vincere il campionato l'ha detto chiaramente il presidente il tuo personale il mio personale cercare di migliorare di arrivare a vincere il campionato ovviamente questo l'obiettivo un po di tutti quanti noi diciamo tutti quanti noi considerando che comunque ci sono anche altre squadre diciamo attrezzate ce la giochiamo con con tutte queste squadre insomma